Quello che io voglio dire, alla posta ci si sta tutti con il giacchetto rosso, chi non le ha viene procurato dall'azienda, gli viene dato dall'azienda. Noi sulla linea di tiro che vi porterà qui il capo canaio, insieme a Ardito, insomma che mi metto manda è Ardito, però siccome Ardito sta un po' più fermo ci mandiamo Luciano, il quale vi dirà la posizione di tiro, cioè da lì si passa di qua, quello che vi dice lui rispettiamolo, perché le poste non sono sui pacchetti, ma bensì sono a terra, quindi non c'è rischio, ma se si spara bene, i cani possono sentire urlare, i cinghiali, i cani, non vi muovete, verrà un canaio dei nostri, finite quell'animale lì, è chiaro non possiamo sparare, né alla bollina, né al dine, vi dicono in bocca al lupo, ok? Ora prendiamo un caffè e poi...